Parliamo con Davide Panepinto, esordio dal primo minuto di quest'anno, per te una soddisfazione dopo un anno tribulato? Sì, sicuramente sono stato molto contento di partire oggi dal primo minuto, siccome la stagione è iniziata a fine dicembre, sono molto contento, preferivo dare qualcosa in più, non sono mai contento, però mancano ancora le ultime sei partite. Speriamo di concludere al meglio. Una gara con l'Univeruno, difficile, l'Univeruno si è difeso bene, qualche occasione arrivata nel secondo tempo si poteva fare di più? Sì, sicuramente nel secondo tempo qualche occasione favorevole c'è stata, qualche cross dalla destra. Sì, una dalla mia parte che è venuta da me, il difensore mi ha strattonato, l'albito non se ne è accorto, poi un'altra l'ho messa bene in mezzo e Lorenzi non è riuscito per poco a deviarla in rete. Sicuramente dobbiamo essere più cinici. Come mai? Secondo te non arriva questo gol? C'è un po' di ansia anche nei giocatori? Adesso tre pareggi a fila. No, l'ansia no, perché comunque abbiamo attaccanti esperti. Lorenzi ha fatto sedici gol e ogni anno ne fa venti, anche Rossi è un attaccante che comunque fa gol, quindi l'ansia sicuramente non c'è. Manca quel pizzico di cattiveria che speriamo che queste ultime partite riusciamo ad avere. Cosa ti aspetti tu da questo finale del campionato personalmente e come squadra? Personalmente spero di trovare minutaggio perché ovviamente ho tutte le partite che non ho fatto, spero di trovare i minuti adesso e sicuramente di trovare la rete che per un attaccante è basilare e come squadra ovviamente di vincere tutte queste partite qua. Sappiamo che possiamo dire che affrontando la penultima in Lecco abbiamo il campionato un po' nelle nostre mani e quindi speriamo di fare gli scherzetti che ci sono già riusciti.